Buonasera, sono Carola di Tarsia di Belmonte, la presidente del premio letterario Galeazzo di Tarsia 29esima edizione. È sempre un piacere venire qui per questo premio letterario che è una costante culturale di Belmonte Calabro da moltissimi anni. È un premio molto sentito soprattutto da me e dalla mia famiglia e vengo sempre con piacere. Grazie per la visione!